Mercato Sanseverino al voto, Enzo Bennett è uno dei candidati, è sostenuto da tre liste civiche, una coalizione di centro-sinistra. Ecco, Mercato Sanseverino è il comune più importante della Valle dell'Irno, che è un'area vasta, insomma, immagino che lei candidandosi voglia portare avanti proprio questo obiettivo, cioè ragionare non in termini di municipalismo ma in termini proprio di rete, di aria più vasta. Sì, bisogna restituire alla città di Mercato Sanseverino il ruolo che di fatto ha sempre avuto, che è il ruolo di capofila della Valle dell'Irno. Bisogna rendere il comune di Mercato Sanseverino attrattivo rispetto agli imprenditori, rispetto agli investimenti, per creare posti, per creare l'occupazione, perché il problema resta il lavoro, il comune deve sviluppare una serie di idee per creare le condizioni dello sviluppo. Non bisogna isolarsi ma bisogna allearsi con gli altri comuni, bisogna fare rete, bisogna ragionare in termini di aria vasta, bisogna collegarsi al comune di Salerno che io considero una locomotiva per lo sviluppo dell'economia e insieme fare di tutto per creare occupazione e posti di lavoro. Ecco perché poi ovviamente la progettualità diventa anche di maggior impatto se presentata da più comuni. Sicuramente, parlare di aria vasta significa avere un bacino di utenza maggiore, quindi significa contare di più anche dal punto di vista progettuale e della proposta politica. Bisogna ritornare a progettare, bisogna costituire presso l'ente locale un ufficio per i fondi europei, per la finanza di progetto, bisogna confrontarsi e rimettere in moto la macchina comunale, confrontarsi con i dipendenti, capire insieme con loro come aumentare le loro competenze, migliorare le loro competenze sviluppando e partecipando a dei corsi di formazione che sono previsti per la pubblica amministrazione. Ovviamente in una larga condivisione con quella che è la macchina amministrativa. Lei ha detto ci vogliono idee, idee per rendere il comune attrattivo, ce ne dica una. Dobbiamo innanzitutto sviluppare il criterio della retroportualità della zona economica speciale e migliorare e rendere più appetibili le aree PIP che abbiamo, che sono rimaste deserte perché il prezzo delle aree PIP era troppo elevato. Quindi insomma tentare di ottenere finanziamenti per ridurre gli oneri di urbanizzazione, per fare le opere infrastrutturali e di conseguenza ridurre il costo del terreno, renderlo più competitivo e attrarre gli investimenti. Ecco, quindi insomma portare un po' di imprenditori di nuovo sul territorio ad investire, a creare occupazione ed economia. Sì, no, no. Oltre, insomma, non solo all'imprenditore intesa come produzione, manifatturiero, ma anche inteso come sviluppo del turismo culturale e religioso. Nella Sanseverino abbiamo il teatro comunale che va riammodernato perché effettivamente può diventare un punto, diciamo, di incontro per tutte queste scuole di teatro che stanno nascendo nel territorio della Valle dell'Irno e che possono trovare il loro punto di riferimento e di sviluppo presso il nostro teatro comunale, anche in questo caso, insieme con gli altri comuni. Bisognerà però fare i conti con i conti, no? Perché quello è un problema che un po' assilla i comuni, dalle notizie, insomma, che in questi ultimi tempi hanno caratterizzato il comune di Mercato Sanseverino. C'è un problema finanziario? No, c'è un problema finanziario, un problema che sicuramente, insomma, ha caratterizzato un poco tutti i comuni negli ultimi tempi, a Sanseverino forse un po' di più. I commissari hanno presentato un piano di riequilibrio finanziario che è al vaglio del Dipartimento Centrale della Finanza Pubblica e che si dovrà esprimere con un proprio parere per poi andare alla Corte dei Conti che chiederà eventualmente, chiarimenti, farà un istruttore rispetto al piano di riequilibrio e uscirà con un giudicato al quale, ovviamente, dovremmo attenerci. L'ultima cosa, lei diceva, il rapporto con gli altri comuni e col comune capoluogo. Immagino anche, naturalmente, il rapporto con la regione Campania che è cruciale, decisivo proprio per la questione finanziamenti. Il rapporto con la regione Campania è cruciale e fondamentale per l'utilizzo dei fondi europei, per creare nuove opere nel comune di Mercato Sanseverino, perché anche attraverso l'utilizzo dei fondi europei e quindi la realizzazione delle opere si può creare sviluppo e si può creare occupazione. Permettemi di dire, l'intelligente utilizzo, no? Servono progetti intelligenti, mirati, ben fatti? Sì, sì, sì. Noi, sin da subito, anche per il programma, ci siamo affidati a una serie di figure professionali che stanno ascoltando il territorio, mi stanno proponendo delle soluzioni e io intendo un po' cambiare metodo. Quindi il nuovo metodo sarà l'ascolto dei problemi del territorio attraverso chi ha conoscenza, chi ha competenza e poi la politica decide.